Lo YouSoli è ancora una legge che non è stata chiusa, quindi c'è una proposta che ha il Senato, una proposta che io mi auguro che diventi legge in questa legislatura, quindi speriamo che si riesca in questo intento. Molti se l'aspettano, molti giovani a cui è stato promesso, molte associazioni laiche e cattoliche ci hanno lavorato, è stata messa in piedi una bella sinergia, è un testo molto equilibrato e io mi auguro che prevalga il buonsenso e appunto se la politica è l'arte del futuro io credo che questa legge veramente sa da fare.